Intanto buon pomeriggio, un secondo che cerco... Sinedita è una società che nasce 24 anni fa, qualcuno me lo confermi dei miei soci, 24 anni fa ci siamo sempre occupati di sistemi di impaginazione automatica, di sistemi editoriali, siamo in Piemonte, lavoriamo in tutta Italia, ma ci fa piacere lavorare in Piemonte ovviamente, perché qua, come si vede da questo convegno, che sarebbe difficilmente organizzabile in qualunque altra regione d'Italia, la densità dei giornali locali è estremamente interessante e soprattutto vivace. Abbiamo sentito delle cose molto interessanti sulle modalità di acquisto delle copie cartacee. Questo è un elemento molto importante, cioè i sistemi di pagamento efficaci, i sistemi per, come dire, catturare i clienti, i lettori, nel modo più semplice ed efficace possibile è un elemento ovviamente fondamentale, soprattutto di questi tempi dove è impensabile far pagare una copia cartacea con carta di credito, l'esempio è ovviamente corretto. e le alternative, abbiamo visto, sono parecchie, cioè metto tutte queste cose in un ecosistema che mi facilita ritrovare ciò che voglio comprare e acquistarlo, oppure l'esposizione sul web o comunque in digitale dei contenuti in modo tale che siano i contenuti che mi guidano verso l'acquisto, potendoli leggere anche se sono protetti. Quindi questi sono i meccanismi corretti, moderni, per affrontare questo problema. Io parlo di qualcos'altro, cioè di qualche concetto diverso che non si sovrappone assolutamente con le cose sentite prima, che anzi sono assolutamente complementari. Quando è che il nostro lettore vuole leggere le notizie di un giornale locale? Le notizie locali? Le vuole leggere ora, cioè in ogni momento. Quindi è abbastanza ovvio pensare che i giornali locali normalmente sono settimanali o bisettimanali, è impensabile che il flusso di notizie arrivi sui lettori solo una volta o due alla settimana. Se diamo per scontato che tutti prima o poi devono avere il sito web, sarebbe fortemente sbagliato pensare il sito web solo come strumento per esporre il contenuto del giornale che per natura sua ha un ritmo settimanale o bisettimanale. D'altra parte viene in mente di dover, come dire, copiare i grandi, ma come diceva giustamente chi mi ha preceduto, copiare i grandi è un errore clamoroso perché i grandi hanno delle strategie che sono diverse da quelle dei piccoli o dei medi. ognuno deve cercare il proprio modo per esserci su internet e non copiare appunto dai colossi per prima cosa perché è una concorrenza persa cioè i colossi hanno milionate di visite all'anno, al secondo, al minuto noi non potremmo mai averle noi intendo noi che siamo qua noi giornali locali mi metto dalla parte vostra. Scusate. e quindi dobbiamo riflettere che cosa hanno i giornali locali che le grandi testate non hanno. Non hanno le notizie del territorio non hanno il legame con il territorio possono avere le notizie del nostro territorio perché ci sono gli inviati, i corrispondenti i collaboratori che mandano le notizie e ci sono i mini portali i sottoportali di Repubblica, del Corriere della Stampa che sono legati a un territorio ma riportano le notizie che trovano sul territorio mentre il giornale locale essendo sul territorio ha un legame stretto con il territorio conosce i propri lettori le esigenze dei propri lettori conosce i propri inserzionisti conosce le realtà economiche locali del territorio ha rapporti stretti con le istituzioni il comune, la regione, la provincia quelle che abbiamo visto qua giustamente e che continuano a comunicare attraverso i nostri giornali e qui cominciamo a parlare anche di un'altra cosa della pubblicità perché nessuno qui ha parlato di finora di pubblicità il giornale locale avendo la conoscenza forte delle eccellenze del proprio territorio può essere una vetrina della qualità dei produttori del territorio i quali hanno bisogno di una vetrina per andare nel territorio e anche oltre il territorio come fa un piccolo produttore di vini di alta qualità a farsi conoscere fuori dal proprio territorio si iscrive a uno store online dove è uno degli emeriti sconosciuti è difficile che possa farlo e che possa ricavarci qualcosa ma attraverso il brand del giornale locale potrebbe poterlo fare quindi il giornale deve essere visto il giornale intendo qualunque modo di comunicazione del giornale poi vedremo quali sono i canali deve poter essere mescolare le tecnologie e i servizi che può offrire i propri utenti i propri lettori unire i prodotti del territorio le eccellenze no gastronomiche vanno molto di moda in questo periodo i beni artistici i musei i percorsi culturali legati alla propria zona di competenza quindi il giornale come luogo di aggregazione delle proposte e delle qualità del territorio rivolto a chi alla realtà locale stessa ma anche chi al di fuori quindi dalla realtà locale si fa una diffusione e comunicazione online questo potrebbe portare se ben veicolato ben indicizzato e ben costruito a una crescita di interesse del pubblico che sta fuori dal nostro territorio portando quindi economia e click ma sono due cose separate ma strettamente collegate tra di loro aumentando quindi le visite e le vendite con una ricaduta economica concreta sul territorio che ci faciliterà e ci facilita a proporre e a riproporre alle realtà economiche del nostro territorio il chiamiamolo marketing del territorio al di fuori in realtà sta cambiando il modo di concepire informazioni pubblicità e comunicazione il mix sta diventando un po' più stretto e mescolato una volta c'era e continua a esserci una netta separazione tra i contenuti redazionali e i contenuti pubblicitari quella cosa che attualmente ha addirittura una terminologia una terminologia tecnica aulica era una che vedremo dopo è una cosa che aveva una una definizione che sembrava una parolaccia il famoso pubblico redazionale che veniva anche detto tra gli amici la marchetta cioè il parlare di un prodotto o di un'azienda come se fosse un articolo ma in realtà era una pubblicità ora questa cosa assume soprattutto in questi periodi di crisi assume un valore completamente diverso il parlare di un'eccellenza del territorio e dare un'informazione all'interno e al di fuori del territorio questo si ripercuote ovviamente sul lato pubblicitario ed economico ma non è il diavolo vorrei sottolineare questa cosa il termine che si usa attualmente per queste cose è native advertising molto elegante e ovviamente molto più elegante di marchetta ma sta diventando una metodologia di vendita di pubblicità che ha fatto che ha salvato molti giornali e ha fatto nel mondo sto dicendo non solo in Piemonte non sto parlando solo dei giornali locali ed è una una scienza che viene insegnata nelle università di giornalismo e di marketing questo secondo noi è uno dei modi con cui è possibile rinvigorire l'editoria locale quindi non solo vendere i classici spazi pubblicitari che sulla carta hanno un senso sul digitale molto meno perché riproporre un rettangolo su uno strumento digitale che dovrebbe essere interattivo non ha molto senso bisogna pensare alla alla pubblicità o agli inserzionisti pubblicitari come a dei clienti a cui si propongono dei progetti di comunicazione oppure la vendita di servizi al lettore che passano attraverso i prodotti di terzi un paio di esempi che abbiamo seguito e che stiamo seguendo questo è un quotidiano un giornale locale che è diventato quotidiano è diventato orario addirittura non quotidiano con un sito il cui progetto editoriale è molto ben pensato è molto ben realizzato ve lo dico perché abbiamo contribuito anche noi a costruire l'infrastruttura che sta dietro questo sito e questo invece è un esempio in cui viene utilizzata completamente la multicanalità e cioè un giornale locale che ha ovviamente il sito web in cui pubblica le informazioni in tempo reale e poi genera e ipotizza e crea un prodotto che è disponibile sugli store per qualunque tablet che è un magazine è un magazine interattivo non è legato a nulla di cartaceo quindi non è uno sfogliatore di qualcosa di cartaceo viene creato per questo tipo di erogazione con una serie di chiamiamoli servizi come vedete lì servizi per il territorio in realtà il ristorante il bistro Calicantus è un inserzionista ma poi potremmo anche vederlo in funzione quando e se vorrete in realtà dietro quell'oggetto c'è un'intervista con l'imprenditore locale che ha aperto quel bistro Calicantus c'è il menu del ristorante che sta emergendo fuori dal territorio ma è dentro il territorio ci sono delle fotogallery del locale eccetera quindi è costruito come un servizio informativo un articolo ma in realtà è tutte e due le cose è pubblicità ma è informazione locale questo è un altro esempio di pubblico redazionale e nativa advertising quindi un'eccellenza del territorio che l'obiettivo ovviamente è farle conoscere anche fuori dal territorio che espone il proprio menu una propria fotogallery e la ricetta della settimana del mese o del giorno grazie mille